Oh, è lei, Anna. Benone. Mi ha preceduto, eh? Benone. Grazie, Anna. Benone. Ce ne ho messo per trovare il vino che volevo. Ho detto al vinaio. Oh, il signor Buchanan. Ah, è stato davvero gentile ad accettare il mio invito. La ringrazio. Sì, ho detto al vinaio. Ho detto. Ma dov'è? Dove ho messo il cavatappi? Ah, grazie, Anna. Grazie. Qua, qua. Tenga, apra lei. Io prendo i bicchieri. Sì, ho detto al vinaio. Ho detto. Quando chiedo lì Brownlich, io voglio... Prendo i bicchieri. Sì. Ho detto. Ho detto al vinaio. Quando chiedo lì Brownlich, io voglio lì Brownlich. Ho detto. E non dell'aceto con una bella etichetta. Io appartengo al servizio segreto, ammiraglio. Eh? Assaggi, assaggi. E se è conoscitore, mi dirà che il vino è questo. Ammiraglio. Ha spacciato dei biglietti falsi da un dollaro. Biglietti falsi? Oh, sì. Sì. E per un bel po' di tempo anche. Aspetti d'averlo assaggiato. Servizio segreto. Bene, bene. Eh, sì. Per un bel po' di tempo. Dunque, beviamo alla salute. Sì, è lui. E una volta assaggiato... Ammiraglio. Dovrà venire all'ufficio con me. All'ufficio? Sì, sì. All'ufficio, sicuro. Probabilmente vorranno farmi un sacco di domande. Beh, dovrò prima sistemare qualcosa. Eh, sì. Prego. Perché non credo che lo faranno... No, no. Poi potrebbe interrompere. Eh, qualche volta è un po' noioso. Sì, specialmente nei posti nuovi. Eh, sì. Mi occuperò io di lui. Ah, sì? Oh, grazie. Grazie. Oh, in caso fossi trattenuto, gli piace il fegato almeno una volta al giorno. Le occorrerà un avvocato. Io ho un amico. Avvocato? Oh, no, no. Non voglio disturbare nessuno. Il signor Buchanan e io possiamo sbrigarcelo da soli. Sì. Sì. E queste cose richiederanno molte formalità, stampati di ogni tipo da riempire. Spero che faranno presto. Non vorrei sciuparvi la serata. Anna. Tu rimani qui e fai il bravo. Un? Un? Grazie.